Un saluto al maestro Pasqualetto da tutti gli amici di Venezia e dintorni. Allora, oggi siamo qui, di nuovo al procedimento della Biennale, no? Esatto, il paviglione sculento di Gardi con la signora Roberta di Camerino. Roberta Camerino, grazie. Attenti, Susano per le persone nobili. Ha visto che il tuo club è così elegante, che è chicche, io metto il libro. Roberta di Camerino è un'altra cosa. Vieni qua, vieni qua, vieni qua, direttamente da Monte Carlo. Stiamo sedendo, stiamo sedendo un altro amico che trova, e quindi ci divertiremo con Micoini, pure tu qua. Guarda che mi piace nella ragazza, guarda qua Micoini. Micoini rappresenta il suo amico che è di buono, cioè tante cose, ma soprattutto il bigolo, non pensate male. Io ho invito la pasta, la pasta buona, scuro d'anica, eccetera, e usciranno queste porzioni squidite per fare soli. Adesso per un po' che sentiremo tutti, un ottimo vino, secco e aria. Buon saluto dagli amici, in Pasquale. Ciao! Grazie a tutti Grazie a tutti